Il partito ordinario 2, allontanarsi dalla linea gialla. 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 Il partito ordinario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Annuncio ritardo, il treno regionale 16659 di Trenitalia, proveniente da Bolzano, è diretto a Peruna Porta Nuova, delle ore 8 e 17, arriverà al binario 1 con un ritardo previsto di 40 minuti per un guasto agli impianti di circolazione. Peruna Porta Nuova 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.